Buongiorno dal dottore Claudio Saracino da Benessere Ippnosi Soluzione. Oggi parleremo della impossibilità nel provare dolore. Ebbene ragazzi, esistono anche quelle persone che non sentono il dolore. Questo è un gravissimo problema, un gravissimo limite, perché se c'è bisogno di stare attenti ad un sintomo, eccetera, eccetera, non senti il dolore, il dolore è la nostra spia, il nostro campanello d'allarme. Ora, se tu non senti il dolore, beh, ci sono problemi seri. E' soltanto l'ipnosi vera e professionale, possiamo dire che può risolvere questo problema, per cui ti invito a sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale in Italia e all'estero di ipnosi vera e professionale, attento, non di ipnosi paura, ipnosi fuffo, ipnosi da spettacolo, ok? E' risolvere il tuo problema. Poi se non è una voglia di girare cappella, vuoi iniziare dall'autoipnosi, puoi scrivermi un'email a ipnologi associati che ho c'è la libro.it, da qualsiasi parte del mondo io ti risponderò, ti darò i migliori consigli gratis, gratis, compatibilmente ai miei impegni e ai miei tempi. Per cui se non ti rispondo subito, ti risponde qualcuno dei miei collaboratori dell'Associazione Ipnologi Associati di Los Angeles, benvenga. Sono persone di fiducia rispettabilissime. Seguimi sulla mia fanpage ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere di ipnosi, soluzione di CSR, il dottor Claudio Saracino, faccia il condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita, e visite anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere di ipnosi, soluzione di CSR, il dottor Claudio Saracino. E al prossimo video, un bacio, un abbraccio. Grazie a tutti.